Le mostre dedicate al Vasari, i mercatini internazionali, l'afflusso nella città di Arezzo da un punto di vista turistico aumenta di settimana in settimana. E allora per garantire la massima sicurezza il nuovo prefetto Clemente Di Nuzzo ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sicuramente la mostra del Vasari rappresenta un banco di prova molto importante per tutto il nostro sistema e oggi abbiamo convocato il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica proprio per coordinare tutte le attività necessarie affinché questo evento si svolga nella massima tranquillità e consenta a chi viene ad Arezzo di godere di queste giornate di arte e cultura in modo assolutamente sereno. Al tavolo convocato dal prefetto tutte le forze dell'Ordine, il Comune di Arezzo e gli attori, i protagonisti delle varie iniziative culturali, dalla Fondazione Guido d'Arezzo alla Fraternita dei Laici. In questo fine settimana, oltre alla mostra su Giorgio Vasari, all'inaugurazione era presente anche il nuovo prefetto, ci sono i mercatini internazionali del gusto che da sempre richiamano migliaia di visitatori da tutto l'Interland. Saranno infatti previsti controlli alle principali vie d'accesso in città. C'è questa coincidenza e quindi bisognerà affinare ulteriormente il coordinamento tra le forze di polizia perché questi eventi possano essere goduti da tutti senza particolare preoccupazione. E' chiaro che gli afflussi previsti sono notevoli e quindi bisognerà prevedere anche delle forme di controllo alle principali porte di accesso in modo da far sì che non ci siano preoccupazioni, ci siano pericoli di sorta. All'orizzonte il grande banco di prova a novembre, l'avvio di tutte le iniziative della città del Natale. Mi sono informato, abbiamo già avuto un altro banco di prova nella fine settimana precedente con il mercato dell'antiquariato che mi risulta aver avuto un ottimo, un grande, aver confermato i grandi successi. E quindi Arezzo deve essere sicuramente pronta ai grandi eventi, a far fronte ad afflussi notevoli di pubblico e noi ci mettiamo a disposizione con tutte le nostre risorse, quindi le forze di polizia nazionale e con il concorso della polizia locale perché tutto si svolga nel migliore dei modi.